Così fino al 18 maggio, seguendo le direttive dell'assessorata all'ambiente, poi con la riapertura della discarica di Pianopoli, tutto dovrebbe tornare alla normalità. Questo è quanto emerso dalla riunione tenutasi stamane tra i 15 sindaci del Tirreno Cosentino e l'assessore regionale all'ambiente Francesco Pugliano. Nessuna soluzione definitiva o strategia che possa alleviare i mali dell'emergenza rifiuti. Si è discusso dei quattro impianti che dovrebbero sorgere nella provincia di Cosenza, un investimento pari a 28 milioni di euro. Si è parlato poi di differenziata l'unica ricetta salvifica che può risolvere una volta per tutte il problema spazzatura. Pugliano ha anche ripetuto che i comuni che avvieranno il nuovo sistema di raccolta avranno agevolazioni sulle tariffe per il conferimento della spazzatura in discarica. Ma perché differenziare? La risposta è semplice. Quotidianamente le discariche calabresi possono accogliere 1600 tonnellate di indifferenziato rispetto alle 2500 prodotte. Ciò vuol dire che in media giornalmente 1000 tonnellate di rifiuti finiscono in strada o rimangono, quando va bene, nei container delle aree di trasferenza. E le soluzioni? L'assessore all'ambiente del comune di Tortora Franco Chiappetta è stato fin troppo chiaro. Per quelle definitive ci vuole un miracolo. Nonostante tutto, a detti, il nostro comune rimane il più virtuoso ed il nostro modello di porta a porta viene invidiato. Si naviga a vista, quindi, giorno dopo giorno, la situazione potrebbe evolvere.